Giorgio Airaudo, Sinistra Italiana. Abrograzione dei voucher è il primo step. I passi successivi è un intervento da parte di Sinistra Italiana in ambito di ricostituzione dei diritti oramai massacrati dagli ultimi anni e dagli ultimi governi. Ma intanto noi vogliamo vincere il referendum, penso che sia un referendum importante, bisogna che il Premier Gentiloni indica la data. Io credo che la Sinistra c'è se è sociale e non c'è nulla di più sociale di un referendum che possa fermare la precarietà, che ha impoverito il lavoro e ha impoverito soprattutto i giovani del nostro paese. Quindi bisogna fermare il voucher per dire no alla precarietà con due sì nei referendum. Grazie. Grazie.